Dopo aver raccontato il sogno infranto di un immigrato tunisino a Parigi e il declino tragico di una famiglia di immigrati nella spietata comunità marsigliese, il tunisino Abdelatif Keshish decide di raccontare una delle pagine più infamanti della storia della Francia, quella che racconta la vita di Sarti Bartman, una donna di origini sudafricane, nota come la Venere 88, che da prima a Londra, poi nella Parigi dell'Ottocento, viene costretta dal suo ex datore di lavoro ad esporsi come in uno zoo allo sguardo della civile borghesia europea. Un film perentorio a Venere Nera in cui Keshish non fa sconti alla cultura occidentale Il regista costruisce sullo schermo il dolente viaggio nella psiche e nel corpo di una vera e propria donna oggetto, violata in tutti i modi. Protagonista assoluta dalla prima e l'ultima scena, Iaima Torres, attrice non professionista. Un film girato e interpretato magistralmente, che lascerà un segno indelebile nella memoria collettiva. A Venere 88!